Nonostante le circostanze fossero avverse, siamo riusciti con questo intervento finanziato dal Comune a tenere le tariffe ferme. In particolare la situazione è molto interessante per le aziende che sono rimaste chiuse durante il lockdown perché per loro ci sarà uno sconto che andrà dal 15 al 25% della quota variabile e che è legato ai giorni di chiusura di questa attività. Perché un principio sacrosanto è che se uno è rimasto chiuso e non ha prodotto rifiuti non deve pagare la tassa sui rifiuti per quei giorni in cui non ha potuto aprire. Questo il piano del Comune per l'acconto della Tari. In un periodo di crisi legato all'emergenza sanitaria che ha obbligato alla chiusura, il Comune ha voluto aiutare le realtà economiche con un contributo concreto. Una manovra da 1,5 milioni di euro per quasi 15 mila attività che operano nel Comune. Tutti i negozi, i banchi del mercato, i ristoranti, i bar eccetera avranno direttamente nella bolletta di dicembre lo sconto incorporato e quindi non devono fare nessuna richiesta. Invece per quanto riguarda le attività industriali e artigianali e alcune altre categorie che poi evidenziamo attraverso i nostri metodi di comunicazione, ebbene per le attività industriali e artigianali sarà necessario fare una richiesta per vedersi poi riconosciuto lo sconto all'interno della bolletta. Per le utenze domestiche che nei mesi del lockdown hanno inevitabilmente prodotto più rifiuti ci sarà un leggero aumento nel conguaglio di dicembre. Un incremento medio del 3,5% che però si riflette soprattutto per le metrature molto ampie. Abbiamo calcolato invece che per quanto riguarda una famiglia con 100 metri quadrati e 3 persone il conguaglio di dicembre per tutto l'anno è di 2 euro, quindi parliamo di una cifra esigua nonostante i consumi si siano spostati all'interno degli ambienti domestici.